Ciao, sono Valerio Nomara. Perché in Italia le serie sui criminali funzionano? Ho trovato diverse analogie fra la serie Marefuori e Romanzo criminale, una delle serie che mi è piaciuta di più del 2008, 2009, 2010, e che andavendo onda su Sky ci ha fatto appassionare, forse è la prima serie italiana sul crime, che ci ha fatto appassionare a questo genere. Poi c'è stata Gomorra, Suburra, e sempre di più le serie sulla criminalità, in questo caso Marefuori parla della criminalità di un carcere minorile a Napoli. Ci piace, ci piace tanto e ci piace seguire le vicissitudini dei ragazzi che fondamentalmente però sono dei criminali. Ho trovato diverse analogie con Romanzo criminale, mi vorrei soffermare un attimo sulle analogie che ho trovato con questa serie, anche se troviamo tantissime cose in comune anche con Gomorra, anche per il semplice fatto che le serie sono state ambientate a Napoli e che raccontano una Napoli da un punto di vista particolare in Marefuori, la vediamo da dietro le sbarre di un carcere minorile, che esiste veramente a Napoli, il carcere di Nisida, e vediamo dei ragazzi molto giovani alle prese con il loro riscatto sociale e che in molti casi però non avviene all'interno del carcere. Il format è sempre lo stesso, troviamo da una parte una banda criminale che sono questi ragazzi e all'interno di questo carcere ci sono addirittura due bande, nella prima stagione almeno, c'è la banda dei buoni se vogliamo, quella con Carmine, Filippo, lo stesso Pino che poi cambierà radicalmente agli occhi dello spettatore da pazzo e da cattivo, insomma ci affezioneremo sempre di più alla sua storia. Dall'altra c'è il gruppo di Ciro, che è il leader di questi ragazzi che sono i peggiori forse del carcere e che mettono a dura prova la vita degli altri detenuti. Possiamo vedere questa storia di Ciro con i suoi scagnozzi, tra virgolette, come il libanese con i ragazzi. E quando viene ucciso Ciro al termine della prima stagione di Marefuori, mi ha ricordato tantissimo quando venne ucciso il libanese al termine della prima stagione di Romanzo Criminale, perché poi nella seconda stagione tutti i suoi compagni fecero modo e maniera per cercare il colpevole e per vendicarlo, anche a costo di mettersi l'uno contro l'altro. Ho notato questa similitudine anche in Edoardo, con Edoardo e Pirucchio, con il bufalo della serie Romanzo Criminale, perché, se ci fate caso, nella seconda stagione di Marefuori, Pirucchio vuole a tutti i costi vendicare la morte di Ciro e mi ha ricordato molto il bufalo che non vede più nulla, si impazzisce letteralmente per vendicare il suo amico e in realtà la figura di Pirucchio, però, anche attraverso questa mimica facciale, è molto riconducibile a quella del bufalo di Romanzo Criminale, uno che all'inizio dice a Edoardo, che avrebbe voluto fare il leader al posto di Ciro, dice tu non sei Ciro perché non c'hai manco le palle sue, mi ha ricordato molto quello che disse il bufalo nei confronti del freddo, del dandy, dicendo non potete sostituire il leader che ci hanno portato via e quindi io sono giustificato a vendicarlo. Altra cosa molto interessante è che ci affezioniamo a questi personaggi anche e soprattutto perché poi ognuno di loro ha un soprannome, altra analogia con Romanzo Criminale. Opieguro, Oiatillo, Pirucchio, il bufalo, il freddo, il dandy, il libanese, insomma, il terribile, insomma, si empatizza nonostante siano criminali perché da un punto di vista vediamo delle persone che cercano un loro riscatto e un loro status quo all'interno della società, dall'altra siamo sempre più curiosi di vedere quali rapporti interpersonali instaurano con le altre persone che hanno intorno ed è questa la forza della narrazione e quindi della sceneggiatura di queste serie di V perché empatizziamo non tanto con il personaggio ma con i rapporti che crea intorno e siamo sempre più curiosi di vedere e sapere quello che farà e dove andrà e fino a che punto si spingerà, insomma, nella sua escalation di violenza in alcuni casi oppure di redenzione. Altro motivo per cui ci piacciono queste serie e in particolare ci piace Mare Fuori è perché si svolge all'interno di un carcere e in questo caso di un carcere minorile che secondo me è il fattore molto originale di questa serie, è la grande novità di questa serie. Il carcere è un luogo che non sappiamo come si vive, come ci si sta, la maggior parte delle persone almeno non conosce com'è la vita del carcere e la curiosità umana nei confronti di un qualcosa che non si conosce ma che ha sempre testato curiosità di com'è la vita all'interno del carcere, dei rapporti interpersonali, delle cose brutte che accadono e fino a che punto accadono sono tutti fattori che ci incuriosiscono a vederla sempre di più e a chiederci ma sarà vero quello che viene mostrato nei film e a livello di realtà, cioè succedono davvero queste cose all'interno del carcere? Fermo restando che credo e non so poi ditemi anche voi cosa ne pensate che forse tutte queste morti all'interno di un carcere minorile sono un pochino forzate. Fatto sta che tantissime cose che invece vediamo nella serie perché poi questa è una serie Marefuori che è molto verosimile, Marefuori funziona perché quello che accade è verosimile, non è forzato o succedono cose esasperate o ridotte a banali interpretazioni e finzioni di qualcosa che è impossibile. Ci sono dei buchetti di sceneggiatura, se vogliamo, delle scene che ho trovato anche divertenti, insomma che ci sta pure anche spezzare la drammaticità della storia con alcune scene divertenti che fanno anche ridere. Però non sarà mai come la Casa de Carta, regà. Io per esempio la Casa de Carta a un certo punto ho detto è diventato una serie di guerra e di fantascienza perché succedono cose che sono a dir poco surreali, quella che con la moto fuori dalla banca nessuno la colpisce, nessuno li ferma, alla fine poi nelle ultime stagioni la Casa de Carta si perde un po', è una cosa che invece non succede con Marefuori che rimane sempre molto lineare e che ti porta anche a spaventarti e disturbante. In alcune scene leggevo che la Rai ha censurato alcune scene, alcune scene che riguardavano Sasa e quindi lo stupro che c'è stato con quel personaggio, se avete fatto caso, Sasa non compare più nella terza stagione. La Rai ha deciso di eliminare sia la scena di stupro, di violenza, anche perché sono dei minorenni, che un'altra scena in cui il papà di Viola la picchia e con la cinghia da bambina. Marefuori ci piace anche in questa terza stagione, anche dopo 12 puntate da un'ora o più di un'ora ognuna con Romanzo Criminale. Altra cosa c'è questa somiglianza che sto vedendo tra Carmine e il freddo di Romanzo Criminale con questo capello molto riccio e poi ci affezioniamo sempre di più a personaggi anche cattivi, anche che sono stati molto cattivi, soprattutto nelle prime puntate, perché è una serie che parte a bomba e ti fa vedere la drammaticità e la crudezza di quello che può avvenire all'interno di un carcere e in particolar modo di un carcere minorire. Sono però personaggi minori portati a comportamenti che fanno gli adulti ed è questa l'altra cosa che ci piace e che ci ha fatto appassionare a Gomorra. Per esempio c'è una scena che mi ha ricordato invece molto Gomorra quando nella prima stagione Ciro è seduto al tavolo con Carmine davanti, sputa nel bicchiere e Carmine se beve l'acqua con lo sputo di Ciro. Mi ha ricordato una scena con Pietro Savastano, biv e col piscio nel bicchiere e quello se lo beve. Piccoli aneddoti, c'è per esempio come suburra la serie, per esempio ricordo i tre personaggi principali, Aureliano, Spadino che era uno zingaro, anche qui c'è il personaggio della zingaro, Nadizza, che è molto particolare, sono caratterizzati davvero bene questi personaggi, è molto divertente e c'era in suburra anche questo bravo ragazzo Gabriele che in questo caso può essere paragonato a Filippo o Iattillo perché da bravo ragazzo qual è all'inizio della serie? Cambia completamente, diventa un'altra persona ed è anche questa la bellezza della sceneggiatura ma la bravura degli attori e l'interpretazione di attori che riescono a cambiare totalmente la loro prospettiva e la visione che ha il pubblico di loro. Altra cosa interessante, le donne, abbiamo imparato ad apprezzare anche il carcere femminile in una serie che ha fatto la storia delle serie tv americane che è Orange is the New Black, ma anche quella spagnola Visa Vis che ci ha appassionato negli ultimi anni. In questo caso, in mare fuori, altra cosa molto originale è che si discosta forse dal filone italiano e che quindi riesce a prendere il filone italiano delle serie più apprezzate in Italia, ma anche dal filone americano e spagnolo riesce a farci vedere come è un carcere minorile il lato femminile di un carcere minorile e quindi anche come si comportano le donne spesso e a volte riescono a fare cose anche più folli e più crude degli uomini, ma è sicuramente interessante vedere anche i rapporti che si creano all'interno del carcere femminile e i rapporti che si creano tra le femmine e i maschi all'interno dell'istituto di detenzione minorile. Forse il più grande messaggio di questa serie è che in senso assoluto non esistono persone buone o cattive. Tutte le maschere che portiamo, e ce lo insegnano i ragazzi di mare fuori, ma anche i criminali di Suburra, Gomorra, romanzo criminale, che poi alla fine la maggior parte di loro in effetti fa una brutta fine, quindi dandoci anche quel messaggio che la violenza e il male non portano mai a qualcosa a un lieto fine. Le maschere che ci portiamo addosso ci sono state appiccicate da altri e nel bene e nel male ce le ritroveremo sempre, quindi io credo, c'era questa domanda che mi facevo mentre vedevo queste serie, sono recuperabili questi ragazzi? Ha senso, c'è una frase che dice spesso il comandante Massimo e dice ne voglio salvare almeno uno. Quello che uno si chiede è che sono recuperabili dei ragazzi, oppure non cambieranno mai, dei ragazzi rinchiusi in un istituto minorile. Sono molto curioso di sapere se siete d'accordo con questa mia teoria, insomma, con questa mia ipotesi, e se avete notato altre analogie o differenze con romanzo criminale, Gomorra e Suburra. Io vi chiedo di iscrivervi al nostro canale YouTube, c'è accensione, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video, e seguiteci su Facebook e Instagram Ciaccheazione, dove tutti i giorni pubblichiamo news riguardanti il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!